Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui dove andremo a parlare di YAP, una carta prepagata Ma prima di tutto ciò vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche E non perdervi ulteriori contenuti del genere Allora, oggi andremo a trattare questa carta Per me è veramente speciale YAP praticamente è una carta dove puoi venire pagato invitando amici Cioè basta pensare questo che nessuna carta, nessuna banca Se non sbaglio la prima è stata YAP Poi ci sono state diverse carte prepagate dove praticamente invitando un amico andavi direttamente a guadagnare Ovviamente si può ottenere la carta fisica Qui c'è l'offerta, diciamo, in questo periodo Che è il bonus di 10 euro di benvenuto Più il restante che ora andremo a trattare Praticamente c'è scritto di scaricare YAP e completare la tua registrazione entro il 30 novembre Ricarica YAP e ricevi subito 5 euro Ottieni altre 5 euro alla prima ricarica di dicembre Quindi praticamente noi che dobbiamo fare? Dobbiamo registrarci Fino a qui ci siamo Nel frattempo lascio il mio link sotto in descrizione Dove lì potete ottenere il bonus di benvenuto di YAP Qui spiega tutto quello che dobbiamo fare per ottenere il bonus Allora, welcome bonus 10 euro novembre-dicembre Poi ovviamente se guardate questo video dopo novembre-dicembre Ci saranno sempre nuove offerte Quindi dovete stare tranquilli che tanto l'offerta di YAP c'è sempre Quindi diciamo che il bonus è sempre quello O qualcosina in più Comunque dobbiamo ricaricare almeno 5 euro a novembre E praticamente andremo a ricevere 5 euro di bonus Quindi praticamente noi andremo a passare dei soldi su questa carta Che poi per carità è sempre nostra Quindi non perderemo niente Dovremo solamente ricaricarla E andremo a guadagnare i primi 5 euro Poi a dicembre dovremo andare a ricaricare altri 5 euro Quindi praticamente il minimo se non sbaglio è di 5 euro per ricaricare questa carta E riceveremo altri ulteriori 5 euro E quindi siamo già a 10 euro di bonus senza fare niente Quindi diciamo che per adesso ok ci può stare Ma ci sono ulteriori bonus Più 10 euro di welcome bonus per te Quindi praticamente noi solamente con questa cosa andremo a guadagnare 10 euro easy Andiamo sotto Qui c'è anche una nuova opzione che è il forziere Dove noi andremo a diciamo ricevere dei punti E andremo a praticamente a guadagnare Io ad esempio ho ricevuto un punto stamattina solamente collegandomi alla carta Quindi non dovresti fare nulla di che Poi andiamo qui sotto Qua ovviamente puoi invitare anche i tuoi amici Andiamo qui su chi siamo Comunque è veramente ottima questa carta Perché tralasciando il bonus di 10 euro iniziale Che può andare bene Ce n'è un altro dove praticamente Ora qui non so non penso che esce scritto Che noi praticamente dobbiamo andare ad invitare dei nostri amici E andremo a diciamo a guadagnare Massimo se non sbaglio questo mese 60 euro Quindi praticamente il primo amico che noi andremo ad invitare Lo dico io perché qua non esce scritto Perché il sito diciamo lascia un po' a desiderare Il primo amico che andremo ad invitare E lui praticamente si deve registrare con il nostro referral link Quindi solamente con il codice referral Che il mio lo lascio sotto in descrizione Praticamente otteniamo 10 euro alla sua prima ricarica Quindi è la stessa cosa che avete fatto voi Praticamente lui deve ricaricare minimo di 5 euro se non sbaglio E tu che stai guardando questo video E lui andrà a guadagnare Tu 10 euro perché l'hai invitato Lui 5 Poi nel secondo Invece di 10 Lui ti farà guadagnare 20 euro Quindi tu andrai a guadagnare 20 euro E lui dovrà solamente ricaricare 5 euro Quindi è sempre lo stesso procedimento di quello di prima Solamente che il vostro guadagno va a salire giustamente Poi c'è il terzo Che andrà a guadagnare Come lui sempre tipo 5 euro Diciamo perché c'è sempre quella cosa di novembre, dicembre 5 euro 5, 5, 10 Quindi lui andrà a guadagnare 10 euro E voi andrete a guadagnare 30 euro Quindi per un totale di diciamo 60 euro Senza fare niente Perché tanto loro stanno passando dei soldi Praticamente in un altro loro conto Quindi non li perderanno Potranno ovviamente spendere questi soldi che hanno ricaricato Io se non sbaglio Tempo fa ho fatto più di 100 euro con questo metodo Ho invitato tanti ma tanti ma tanti amici E sono andato sempre in guadagno E tralasciando questo Ovviamente ognuno può spenderli come vuole Io vi consiglio sempre di investirli in cripto o sul mercato azionario Però già il guadagnare può andare bene Perché tanto sono soldi diciamo che si possono fare facilmente Senza sforzi Poi c'è un'altra possibilità di guadagno E' quella del forziere Dove noi dobbiamo andare ad accumulare delle monete E possiamo vincere fino a 100 euro Qui 5 modi per accumulare monete E' una moneta per ogni giorno in cui apri l'app Io l'ho fatto praticamente stamattina Una moneta ogni volta che mandi soldi a un amico con gli app Massimo 5 amici Capite bene che se vi mettete d'accordo con 5 amici Volete andare a guadagnare tranquillamente Potete aiutarvi a vicenda Quindi è davvero easy 10 monete per ogni amico invitato che ricarica gli app Quindi a sua volta Diciamo la richiesta Quella lì che dovete fare prima per andare a guadagnare Quei 60 euro Giustamente viene accreditata anche qui Poi una moneta ogni 5 euro spese online e nei negozi fisici Giustamente se vi servono poi Potete andare a comprare qualche cosa Potete andare al suo mercato Al centro commerciale Tanto se volete potete avere la carta completamente gratuita Io attualmente ce l'ho Poi 10 monete se ricarichi almeno 25 euro Quindi pure questa fattibile tanto è sempre la vostra carta Quindi non andrete a diciamo a perdere dei soldi con questa sfida Anzi li potete pure prelevare Quindi non ci sono problemi Poi vabbè qui dice di pagare con gli app Qua e là Cosa succede se vinci? Quando vinci ricevi una notifica e un'email Che ti invitano ad entrare in app Clicca sul forziere hai vinto Per ricevere il buono regalo Amazon via email o sms Poi ovviamente se non sbaglio ci sono ulteriori premi Qui non me li fa vedere Però è veramente veramente easy Quindi questa diciamo che è la carta che ho recensito oggi Io onestamente ve la consiglio Ho fatto veramente un botto di soldi Magari ora in sovrimpressione Vedete quanto ho fatto Io ovviamente sto scurando i nomi di tutte le persone che ho invitato Ma comunque ho fatto veramente molto molto di più di 100 euro Ok ragazzi per questo video è tutto Mi raccomando se questo video vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al canale E di attivare la campanellina delle notifiche Per non perdervi ulteriori contenuti del genere Noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao e a presto